Contratti di solidarietà per un anno con il salvataggio dei colleghi messi in una procedura di mobilità e una solidarietà proporzionale 3,8% del Monte Ore per gli operai, dal 5 al 7% per gli impiegati del quarto livello, fino al 15% per gli impiegati dal quarto livello in su. Con 130 voti favorevoli, uno contrario e 19 assenti, passa l'accordo per la vertenza della Team, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Teramo. In ballo ci sono alcune ore lavorative al mese alle quali a turno gli uomini della Team dovranno rinunciare per compensare 350-400 euro mensili di disequilibrio economico. I sindacati, spiegando il successo, rivolgono lo sguardo ai dirigenti in modo che anche loro facciano un piccolo sforzo decurtandosi parte dello stipendio. Amedeo Marcattili della CGL parla di responsabilità che gli altri, dinnanzi a questa manifestazione di unione e fermezza, debbono assumersi. Però la Team deve cambiare registro, continua il sindacalista, perché i lavoratori hanno già posto sul tavolo delle questioni inerenti all'organizzazione del lavoro, dal momento che con i giorni di solidarietà che impediscono gli straordinari, c'è il punto di interrogativo su come farà Via Delfico a garantire tutti i servizi. Ma restano in piedi anche tutta una serie di problematiche che vengono poste dai sindacati e i dirigenti della Team. Teramo andà incontro ad un problema che riguarda la garanzia del servizio di raccolta, la forza lavoro e sotto organico i mezzi sono usurati, dunque urge un cambiamento di rotta, altrimenti si creeranno gravi problemi alla cittadinanza.